Parlare di piazzarmelo perché un attimino a quest'ora voglio dire che sto facendo apposta Eh, niente, va bene Va bene, poi se uno fa una battutaccia tu gli fai subito niente, niente, niente Dai Oddio, cosa? È diventato un Mac il tuo computer? Io odio un Mac Bene, è iniziato benissimo, Yambu No, non iniziare a dirci cosa dobbiamo fare No, non dimmi che è uno di quei roby lì che fai tutto col computer, Yambu Non ci fa alzare l'esperienza di gioco per farti ben volere, Yambu Questa parte non l'avevo mai vista, niente Ciao, Fairy Buff Ok, ok Cosa piazzi? Niente, me lo piazza a me Me lo piazza a me, in separata sede, tra l'altro Con cattiveria, va bene Faccio un bello shout-out a Jack Prima che me ne dimentico Ora scarichi i virus e li provi Ma perché? Cosa abbiamo fatto finora? Che cazzo devo fare, Yambu? Che cazzo devo fare? Comunque benvenuti a tutti Visto che siete appena arrivati Stiamo facendo indie horror a cazzo Completamente a cazzo Andiamo nei siti indie Se ci piace, li scarichiamo Cioè, se ci attirano così al volo Li scarichiamo e li facciamo Non è vero, questo è quello che ci diciamo per dormire la notte In realtà facciamo i giochi horror detti da Yambu In realtà questo l'ho consigliato, Yambu Poi su Twitch apri la tua live qui dentro Ok, Yambu, non ci sono parti del PC Ma qui come vado avanti? Oh, ti aveva detto di andare nelle impostazioni? Questa parte del PC dura 30 secondi Sentilo Sì, ma fammela durare 30 secondi Apri la tua live qui dentro Col Mac Che cazzo vuoi streamare col Mac? Fidati di me Beh, ma... C'è il cheat per questo gioco Niente Ma puoi premere in giro Fare qualcosa? Oh, finalmente ho trovato qualcosa Ok, c'è della storia Sono molte parole, eh Queste sono molte parole, Yambu Queste sono molte più parole Di quanto io non sia in grado di Tollerare a quest'ora, lo sai C'è solo sta roba, ok? Come la tolgo questa roba? La metto nel cestino Questa roba può esce dal PC Non sta uscendo, Yambu Non sta uscendo dal PC Yambu TikTok Yambu, eh TikTok Niente, ogni secondo che passa Spegni il PC Non il tuo Ma cazzo Non ho idea di come si spenga un Mac Ok? Non ne ho idea Non ne ho idea Non lo so neanche io Basta, forse è gatto Basta Icid, cazzo Dal bottone sul PC Come fai a premerlo, Jack? Spiegamelo Aspetta che guardo un video Yambu Niente Ha fatto all-in E ci aveva in mano Le gatto di magic Sì, posso aprire solo sta cosa È ok Ragazzi, qualcuno ha un Mac Scusate gli insulti che ho detto prima al Mac Perdonatemi, ragazzi Però ditemi come si spegne un Mac Vi prego Clicca sulla mela Aspettila Quale mela? Non ce n'è mele È qui, qui c'è la mela Non va Dov'è? È in alto a sinistra Ah, ma è piccolissimo Ma se la clicca succede qualcosa Dal video sembra che esce da solo È perché non cattura il cursore Clicca sul lucchetto È ancora Sai la password? Scrivi door come password Fai una giravolta Hai mentito, Mad E adesso developpa fuori dal computer? Anche Mad adesso mente L'ho giocato troppo Allora dici liquidina Dici liquidina Cazzo L'hai fatto tu sto gioco Serve una password A quanto pare Aiutate Ma come aiutate Mi ce l'hai consigliato tu sto gioco Yambu Hai fatto il bullo finora Dicendo Qualc'è il gioco della vita E poi Che se è qua la password Che si capisce Che si capisce Niente L'ho platinato Ho capito che nel video Dero 30 secondi Ma perché lui sa cosa premere Yambu Io sto premendo tutto Ho trovato soltanto un cosa dove inserire la password E questa pagina E basta Davvero In alto comunque Perché non lo riesco a vedere da qua Ma in alto Non c'è un menù a scomparso Dove c'è tipo spegni Qualcosa del genere No? Come non riesci a vederlo? No tipo In alto a destra Tipo Perché magari c'è tipo la barra Una barra scomparsa Si chiama Office Door Probable Che vuol dire? Ma Mad sta trollando Mad sta trollando Mad sta trollando Mad sta trollando Non servono teorie Servono fatti Servono fatti Mad Se non sai cosa devi scrivere Nella password Non consigliare cazzo Mi ci gioco la spadina Metto parolone lui Di calamela Ancora Scusate come si chiama il lucchetto Cosa vuol dire? Quale lucchetto? Non riesco nemmeno a tornare la pagina Non riesco a togliere questa La password non era alto f4 Niente Trollano tutti Stai trollano tutti Dal primo all'ultimo Si si stanno divertendo così loro Maledetti E' un bullismo pazzesco Il criminal si è organizzato ormai Mamma mia Fermi Ragazzi aiutateci Oh ci lo fa Ok Niente Doorlocker si chiama Nel video nessuno fa nulla Cosa vuol dire Nessuno fa nulla? Per spegnere il Mac Devi cliccare la mela Che ti porta un menu a tendina Che ti fa guardare in su E poi in giù E poi girare su te stesse Ma spegni il computer E' una cosa che ha consigliato Yambu Senza esserne certo Ragazzi E' questo il problema Quindi non bisogna spegnerlo Secondo me Bisogna premere qualcosa Che non ho idea Adesso vado a vedere il video Stai aspetta Nel frattempo Premi così a caso No mi sono rotti i coglioni Lo guardo anche io Vai allora Lancia Yambu Attosso al pc Ma si che stanno inserendo la password Ma intanto 30 secondi Un cazzo La password è alt tab Slash un mod Yambu E per un certo punto Lo chiude da solo Strano in effetti Cioè lei fissa la pagina Ma Yambu C'è una voce molto sexy Quella signorina Non è che questa demo E' stata tolta Dallo scaricamento gratuito Perché è bugata Per dire eh Perché è in eventualità Cazzo ho trovato la X In basso a destra No è vero Tu 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 la vedi una X In basso a destra Io non vedo un cazzo Ma qualcosa di questo È cliccabile Io le ho cliccate già tutti Queste icone no L'unica che si apre E' questa Sempre sta merda Dove conto mi è buggato Quella blu vicino al cestino Dove cazzo vede la X Quale cazzo Questa Non è una X Non è cliccabile Adobe lo puoi aprire No Non lo posso aprire E' niente Non c'è un cazzo di cliccabile La barra in alto Non c'è niente di cliccabile Manco là Ho provato tutto Ho cliccato tutto C'è anche affinity Vedi Ho cliccato veramente tutto Toh clicco di nuovo Tutto qua Clicco tutte le iconcine In alto a destra Macintosh time Macintosh YouTube Doorlocker 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 si apre Si però non c'è La finder Filo Edit Go Window Perdo tutto E' lì che va cliccato E' lì dove Lì dove Yambu Sta trollando Sta trollando Veramente Sta tornatamente trollando No la guarda Sto guardando Ce l'ho aperto Giuro su Dio Che ce l'ho aperto E' lo stesso video Dimmi che non ha linkato Davvero lo stesso Ok no No lo vedo Mi sta facendo vedere Che di fatto Si esce dal computer Lo so Lo vedo Sembra anche Promettere bene Cazzo Sembra anche bello Però non ci fa uscire Da questo computer Di merda Vai a 4 minuti Ah no E' diverso Sul video Non clicca nulla What No mi sa che ha premuto Proprio qualcosa Qualche tasto Nella tastiera Per alzarsi Dal computer E vabbè Ho capito Ma è criptica Sta cosa Su Cosa sto Fatti Cos'è Time Comunque scusami Un attimo Quindi Questo qua Che c'è su youtube Non è lo stesso Che stiamo giocando noi Perché il nostro Comincia direttamente Al pc Sì comunque Ha ragione Lui Lui clicca Lui clicca In fondo a destra In basso a destra Nell'angolo Clicca Nel video Sembra premere Da qualche parte In basso a destra Perfetto Va bene GG Ha premuto Oh madonna Quanto GG Cosa sta succedendo Stefano non si sente più No Alla fine Che hai fatto Non penso lo sappia neanche lui Ho premuto qualsiasi cosa Ho premuto Q e V insieme Di nuovo Eh su tasti della tastiera Devo premere Però me lo devi condividere Sparito Ok Ha sfattuto la testa Sulla tastiera Per provare ad andare avanti E si è mutato Però è riuscito Ad andare avanti Adri Di certo non grazie a Yambu Però No infatti Vedi lo senti Lo vedo e lo sento E l'aga Terribilmente lo stesso Incredibile La grafica ci sta Perché questo va detto Va bene Stavolta non te l'ho detto neanche io L'hai fatto tu Non ho detto nulla io Di cosa stai parlando Non hai detto nulla Hai riso Io ho sentito Mettila Mettila No basta Mi manca il computer Torniamo No no Allontanati E poi tra l'altro Il protagonista C'ha un mech E si ubriaca Jägermeister Davanti al mech Quindi già deve morire Non riesco ad uscire Da questa stanza Adesso K Non pigliate infarti Ma quali infarti Quali infarti Cosa Si possono Si possono Avviare infarti Le porte sono per semplici umani Eh questo però c'è il mech Tanto semplice non è In questo ci sono parecchi infarti Ma quali infarti Fammi uscire da sta stanza Jambu Però Si vede un po' lentino Dovrai trovare la password Per uscire E metterla nel pc Lo ammazzo Adesso Tieni Tienimi duro Nola Trattienimi No col cazzo Vai 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 Ti metto Ti metto Oh il rules of nature Il sottofondo Mentre lo fai Ah lì che ho giocato A quell'horror Che mi hai fatto vedere Al 2 Ah dungeon Dungeon nightmare Dungeon nightmare Si No ma l'ha streamato? Si Stasera Oh L'1 o il 2 Il 2 Il 2 Mamma mia Mamma mia se ne recupero Anche quella Non succede un cazzo Jambu Devi trovare il mattone segreto A quanto pare Il bambino che chiede soldi Mi sto sul cazzo Ci sono lettere sul muro Ok l'ho vista C'è una cappa E basta E basta Io pensavo delle lettere C'è una lì E' letteralmente delle lettere Ok Che Ma Ma è una parola Cioè questo si è scritto la password del computer in giro per casa Perché mi deve sempre mettere indie del cazzo con gli enigmi a quest'ora di notte Madonna Ma gli enigmi a un boom E niente dura 20-25 minuti massimo che ci gioco con la spadina eh Siiii 25 minuti Sono quattro lettere Che lettere sono? E? K? E A Ne manca una Non la trovo L Eccola lì Lake Lago Come torno al computer adesso No Lake Si Oddio si potrebbe essere Lake Ok Ma non poteva dirci direttamente la La parola mentre eravamo qua al computer non sapevamo che cazzo fare No Troppo semplice Ero un mazzo Non la sapevi Bastava andare un attimo avanti Ciao Patrick Non lo sapevo non l'ho giocato Ma allora perché ti ci giochi la dignità su una cosa che non conosci? Ciao Patrick Ok Il sangue nel cesso non fa Paura Ah ah Quindi Io non voglio essere cattivo nei confronti di Yambu dai Ma nemmeno io Nemmeno io Spero Spero che sia una cosa passeggera questo E' Yambu che è cattivo nei confronti di Yambu E' Yambu che si vuole parecchio male Ma scusa ma anche io Seriamente io lo sto guardando a full screen in televisione No 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 dai smetti di scherzare No smetti di scherzare Dai non è divertente No no Non mi ha fatto saltare neanche a me Io lo sto guardando a full screen in televisione su discord E Cioè Un volto a caso Sì Dai almeno non era una suora insanguinata Perché non vuole andare oltre questa zona? Cazzo Cos'è sta cosa? Mi sta facendo rosicare a me che non lo sto giocando Che fastidio Andiamo su allora dai Mi fanno più paura le cose che sto studiando Non lo so Cosa stai studiando Romeo? Ma poi Scala con le candele Ok Per che altro E' pure durato parecchio quel coso lì E mica volevo andare via No no E' rimasto ria a fissarmi 5 secondi buoni Sì Neanche un flash e poi se ne va No proprio lì così Ah no Era lì che stava pensando chi me lo ha fatto fare Chiaramente Perché mi hanno programmato così? Chimica industriale Pesante Gli ambu forse ho cannato Niente No dai E' comunque E' comunque Il migliore di quelli che abbiamo fatto stasera Dai Per adesso Anche se ha fatto solo quella cosa lì Oddio Aspetta What? Ma cos'è? C'è C'è un oggetto Ma Ha Ha Accoppiato Davvero Reset? Ma cos'è? Questo è un enigma di Reset Evil 7 Devo fare l'ombra dell'aquila usando sto coso Ah mamma mia Siamo arrivati davvero a copiare Reset Evil 7 Ah Ok Ah Ok Ok Anche questo è ok Ma abbiamo rita nell'occhio Viene da Neo quello Quindi mi stai dicendo che Interrompi un enigma per metterci un jumpscare brutto? Già Ah Ah Non c'è neanche l'ombra Non fate notare queste cose Non fate notare queste cose E' vero? Non c'era l'ombra? E' vero? No C'era C'era Dentro di noi Nei nostri cuori Noi la vediamo Anche se non è lì Vabbè Vado giù adesso Ma che altro era iniziato bene Sembrava che dovesse svilupparsi una trama Qualcosa Invece Una roba a caso Era iniziato bene Sì dai C'era il computer C'era la cosa della passo Nella stanza Era carina Sono tutti così i jumps Beh boh Non lo so Quanti cesti ci sono In effetti quanti cazzi Di cesti ci sono E' una bella domanda Ok Parole E' rimasto mi fa il jumpscare Mentre leggo? Ve lo aspetterei Mamma mia Vabbè Dice stronzare Comunque Spirci attraverso i muri In effetti potresti farlo C'è una pagina che vola Cioè non lo sto neanche Non sto neanche pensando a quello che sto vedendo C'è una pagina che vola Adesso devi fare l'ombra della pagina Sul muro Al buio Basta comunque Quanti cesti davvero? Alte F4 Niente Un loop di cesti In effetti hanno più Più bagni che stanze da letto E' il terzo o quarto cesto che vediamo Mamma mia Un loop di cesti Cazzo Vado giù Un horror per i traurici Ma devo scappare Mi sa che devo scappare Dici? Si mi sembra che non abbia buone intenzioni Vabbè dai poverina Definirlo un mostro Mi sembra eccessivo Ah ok What? Carino paranoio E' diventato uno step Ok comincia a farsi un pochino interessante Ok Quella è la tizia che ci ha fatto il primo jumpscare Mio migliore amico rimane Tizio con la maschera da coniglio Perché c'è una donna seminuda Che si bagga in casa Oh Te non ti farebbe paura Aizit avercela in casa Se mi sembra che si bagga in casa E' bellissimo Eh Lo fa Ok lei è in quella parte della casa Che prima non mi ci faceva andare Senza motivo comunque Non potremmo mettere una porta chiusa Che magari si apriva dopo No 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 Ha messo un muro invisibile Paggandosi Ha rimosso il muro invisibile Ma mi trolla Ma vieni qui Non riesco Ti vuole stuprare Niente Vedi vedi che si avvicina Perché mi vede Dai Dai Però è una persona Cioè è normale Non è un posto Ha gli occhi neri cazzo Ha gli occhi neri Che paura Oh mio dio Infatti non sembra minacciosa Sì ma il personaggio non è che corre È cammina Non gliene frega un cazzo Infatti non Eh poverina È sonnambula Dici? Non lo so Può essere Niente Salve Non sembra in alcun modo No Guarda che vuole trollarmi Ha capito Ma sei tu che trolli lei No 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 Lei che trolla me Ok La porta non va Do Non so cosa devo fare Torna al computer Era più interessante Quasi Magari riesci a spaccarla Sì ma ci sia una porta Con un codice di nuovo E poi finisce il gioco No Yanbu dai Hai appena perso la spadina Yanbu te lo dico Devi trovare la porta d'ingresso Della casa Ma tutti gli infardi Dovano esserci Ha lasciato quei due Mio dio Yanbu è molto coraggioso Sì ha fatto l'in Sì 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 È molto coraggioso Scommetterle tutto quello che hai Su una cosa Ma non farlo Se non ne hai la certezza Mamma mia Quella è la porta Dice tu Quella lì No quella là Sarà quella lì Che è chiusa Penso Ma non c'è una sega La porta non me la clicca nemmeno Comunque Sembrava bello il video Eh forse sembrava bella la grassa Il problema Yanbu è che tu dici Ah ho passato sei ore ieri notte Senza tornare a cercare i giochi più belli della vita E poi Non so neanche tu dove è lei mo Pensa a quelli brutti Ma niente Bastaci quelli brutti Yanbu Magari sono più divertenti da fare La porta di casa è questa Non fa un cazzo Yanbu Sveglia la sonnambula Magari l'apre lei Questa porta Eh ma non fa niente Non fa un cazzo Yanbu Te l'ho detto subito Chiudilo tanto finisce lì E' una merda No a questo punto lo finiamo scusa No no lo finiamo cazzo Cazzo Cioè lo vuole espandere questo gioco Vuole farsi qualcosa di più? Beh Diciamo che non è che non dormirò la notte Domandandomi ciò No perché Se fosse più adrenalinica la fuga da questa tizia Non sarebbe neanche male Ma cazzo camminano Si inseguono camminando Non li posso prendere sul serio Prova ad aspettare la tizia Questa è una demo Eh ma come demo? Prova ad aspettare la tizia mi ammazza Come demo non dimostra granché A parte la grafica che è bella per carità Andiamo su E' stato il mio primo jumpscare in cui non mi sono spaventato Stai crescendo Adria allora Vai a 22 e 45 Ok Vediamo Ma Non è che stiamo perdendo delle versioni differenti Per il bene di Ambu io non descrivo che cosa ho appena visto Però a giudicare da questo video Tu devi andare davanti alla porta E davanti alla porta d'ingresso Farti prendere dalla tipa Ah E' stato Ah ok Ammesso che succeda quello che succede in questo video eh Però lui fa questo Ok Si è esatto Esattamente così Ciccia Oh qua qua Dove vai qua Non è che hai visto il remover esatto No 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 Perché letteralmente succede quella cosa E poi dopo Ma non ci doveva essere un codice per aprire la porta Che cazzo ha detto prima di Ambu? Eh ma non viene Non viene qui No mi ha detto vai a lì E lì quello che succede è che succede del casino davanti alla porta E mettere il codice Ma ho guardato Ma ti mi ha detto vai a 2245 2245 ce n'hai codice C'è quello a fare lì in base Ma non c'è da inserire codici Non ho capito dove li ha visti i codici Aspetta 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 No in effetti è vero No si è pure arresa Cazzo Ho pure smesso di provare a prendermi Aspetta aspetta Oh mi ha visto Dai Vai alla porta No è vero Clicca la porta Seleziona la porta Cliccando tipo la maniglia o qualcosa del genere Dovrebbe apparire una sorta di codice Non mi faccio proprio prendere da lei allora No mi sa che prima devi inserire sto codice sai Perché la puoi aprire sta cazzo di porta In teoria Perché lui va qui Ecco lui va qui sulla porta La seleziona e appare un menu per inserire un codice La seleziona in che modo Ah non c'ho idea Io sto cliccando tutto eh Ma c'era un menu per i controlli Non c'ha neanche un cazzo di menu di pausa sto gioco Devi premere P sulla porta P Stai prendendo per il culo Yampo E' P Ok E' il codice qual'è Dimmi Dimmi Quello è il codice E finiamole a qui Ti prego Cazzo P di porta Madonna Mamma mia Ma uno come avrebbe dovuto Fare Ciao Yolo E il codice Aspetta Il codice Il codice è un parolone E' talmente piccolo quel cazzo di menu Che non si legge una cippa Ti giuro non ci leggo assolutamente niente Tu Yampo riesce a leggerci nel video Toluca Cos'è pure un riferimento a A Silent Hill Ah perchè prima è la lake Quindi Toluca 4 6 5 1 2 3 4 Guarda lì trolloni Si Ecco Luca Ok Quindi Lei mi prende Mentre cerco di uscire No? Aspettami lì arrivo Alla